L'Inps ha pubblicato la circolare Inps numero 122 del 27 ottobre 2022, con le indicazioni dettagliate e le novità in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità anche delle lavoratrici autonome. Si ricorda che tali novità sono state introdotte dal Decreto Legislativo 105 del 2022 in vigore dal 13 agosto 2022 in materia di conciliazione vita-lavoro e parità di genere, che ha modificato il Decreto Legislativo numero 151 del 2001 con un focus particolare sui congedi di maternità e paternità di genitori-lavoratori. Nel medesimo Decreto Legislativo numero 151 del 2001 sono state altresì modificate alcune disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno interessato anche la Legge 22 maggio 2017 numero 81 in materia di congedo parentale degli iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2,26 della Legge 8 agosto 1995 numero 335. Sintesi in tre punti Il congedo di paternità di dieci giorni è diventato strutturale. La maternità delle lavoratrici autonome si può ottenere da due mesi prima del parto. Il congedo parentale è stato ampliato. Spetta adesso per un totale di 12 o 13 mesi ai genitori nei primi 12 anni di vita del figlio. Inoltre, come già comunicato, è prevista una nuova flessibilità sui permessi per assistere persone in situazione di gravità e l'estensione del beneficio alle coppie di fatto, che comunque erano già equiparati ai coniugi. I dipendenti possono chiedere i nuovi congedi al datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione attraverso la domanda all'istituto previdenziale, non appena saranno adeguate le procedure informatiche. Gli autonomi possono astenersi dal lavoro, presentando domanda all'Inps, in un secondo momento, non appena sarà rilasciata l'apposita istanza telematica. Grazie.